pancia e non ha il culo praticamente ci sono delle donne che hanno la pancia al posto del culo cioè nel senso che hanno la pancia grossa il culo inesistente non è che basta andare un giorno in palestra per migliorarti far sparire la pancia e tonificare il culo non basta devi andare sistematicamente in palestra sistematicamente ad allenarti a fare esperienza e così con i tuoi pensieri non è che basta un unico pensiero positivo per trasformare la tua vita per rendere la tua vita felice no devi abituarti ad avere dei pensieri positivi costantemente costantemente avere dei pensieri positivi perché uno non basta questo è un punto molto importante questo è un punto fondamentale quindi inizia a sviluppare tutta una serie di pensieri positivi costantemente sono questi che ti porteranno ad essere felice e allora forse le altre persone forse la persona che si è allontanata inizierà a pentirsi di essersi allontanata finché tu pensi che la felicità dipenda dall'esterno sarà infelice quindi devi anche toglierti dalla testa tutte queste cazzate che ti hanno messo in testa prima il dovere poi il piacere ma dove è scritto che prima il dovere poi il piacere tu inizia se puoi avere piacere ad avere piacere nell'essere felice questi sono tutti i punti fondamentali il tuo tempo che è limitato lo puoi vivere solo nel qui ed ora solo nel qui ed ora tu puoi vivere il tuo tempo puoi esperire le tue cose e quindi certo ci sta che ci può essere un momento di negatività tutto è possibile fanno parte della vita ma questi momenti di malumore non devi aumentarli non devi alimentarli e allora inizia a prestare attenzione alle piccole cose che ti possono rendere felici i piccoli stati d'animo interiori ad esempio non lo so fai una doccia calda una doccia calda ti può dare sulla pelle una sensazione di benessere una sensazione di felicità poi magari qualcuno piace la doccia fredda a me la doccia fredda fa schifo a me piace la doccia calda quasi bollente diciamo così perché mi dà un piacere una sensazione di piacere ma è una mia cosa poi magari c'è qualcuno che gli piace la doccia fredda no a me piace la doccia calda bollente che quasi miustiona no ma mi piace molto calda non lo so puoi percepire puoi non so il profumo del caffè alla mattina o il piacere di berti un caffè alla mattina sembra una cazzata ma ti può dare una sensazione di felicità questo è un punto fondamentale no magari sentire parlare con una persona la sniacchera non so cosa sia la sniacchera sarà quello che prendi tu non lo so comunque bastano piccole cose per avere magari che ne so la pioggia se piove il sole se c'è il sole una conversazione con una persona interessante interagire con una persona interessante e questo sono tutte cose che ci danno diciamo possono darci la felicità ma la felicità e sono piccoli input che ci possono dare come possiamo dire delle energie positive quindi dobbiamo iniziare ad essere grati devi essere grato perché questa mattina hai preso il caffè e non sei in un letto di ospedale con salutiamo roxy rosa intubata ad esempio intubato quindi inizia essere grato alla vita perché hai preso sto cazzo di caffè questa mattina e non sei nell'ospedale intubato perché diciamo ti sei fatto una doccia calda devi essere grato inizia a sviluppare gratitudine ecco questo è un punto fondamentale no quindi affrontare la vita con fiducia con fede fiducia